tra i due fratelli ci prova subito scucato e ben piazzato Sgaria il primo tiro è Bassanese e a questa parte Nicogeda che ci prova la botta Nadini si accentra Nadini la deviazione in coccia sul patino di Amato ancora il tentativo il gol c'è il gol di Nicogeda il gol di Ogeda l'argentino l'argentino per il Valdagno pallina nel sete la sblocca la sblocca la formazione bianco-azzurra scucato dentro prova a andare via Xavi Rubio Ogeda attenzione occasionissima con Xavi Rubio per Nadini attenzione Cansella che recupera pallina e va al tiro Samuele Muglia potenziale tre contro due la botta e il palo Nicogeda la botta di Ogeda che fa la Samuele Amato Giuliani attenzione doppio tunnel su scucato siamo già dall'altra parte Mark Coy carica la botta trova la pettorina stavolta 11 secondi vediamo un po' voglio andare a tirare Ogeda palla che si impenna è il gol attenzione c'è il gol pallina incredibile pallina incredibile c'è stata una deviazione su Ogeda Coy che ci prova la botta di Coy per cercare di recuperare pallina Ogeda Ogeda che va via attenzione Nico Ogeda fa tutto lui una meraviglia qui che numero Ogeda mamma mia l'argentino l'argentino per il Valdagno il più bel gol della stagione sulla pista del Palalidone fa mette il terzo Amato può andare al tiro attenzione Pozzato Pozzato traversa poi la palla esce però si ferma scarica per Amato che carica carica il tiro è qui c'è un po' di movimento lì dalle parti del mi pare di aver visto che Joseph Silecchia ha sventolato un paio di cartellini rossi alle vicende okistiche Nadini contro Veludo un gran bello scontro ci prova Nadini la finta la botta di Nadini che non trova poi facciamo tre contro tre adesso due contro uno Giuliani Nadini la gol il gol di Nadini la pallina ancora nel sette dall'altro palo sembra la fotocopia del gol di Ogeda nel primo tempo gol Valdagno 8 e 50 alla fine ci prova quasi a colpo sicuro Giuliani miracolo ancora di Veludo poi va giù va giù Coy scusate c'è il fallo di Coy su Motarana tra l'altro assolutamente inutile perché lo aggancia retroporta Ogeda contro Veludo finta di Ogeda prova lui esterno della rete